Buongiorno, buon mercoledì, buongiorno, Radio Blinco Blanco, Telemessina, Produzione Hans TV, ti piace la tassa terratera? Siamo qua, tutto questo? Eh, me l'ha detto la regia, dici così, wow, vero? Eh, un signore? Sì, bravo, grazie, fammi l'applauso pure, no, 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 poi mi abituo, buongiorno, buon mercoledì, siamo Nino e Pappa a Radio Blinco Blanco e Telemessina con la Produzione Hans TV, la Metro Gold Mayor invece, so quello che fai tu la sceneggiata, oggi siamo andati a Gansirri, anzi nella litoranea dello stretto e abbiamo visto una cosa quando dici la prontezza, i riflessi pronti, il pronto intervento, la regia chiama l'ambulanza, la regia chiama l'ambulanza, allora, guarda qua, non è che si capisce tanto, bellissimo, però ci sono dei sacchetti, della sporcizia, c'è altro dalla regia? Ecco lì, ora si vede meglio, ma non c'è mai i sacchetti, i laghi di Gansirri, ma non c'è mai i sacchetti, i sacchetti dell'aio, no, i sacchetti dell'immondizia, no i sacchetti, le tasche, parla in italiano, guarda quello che c'è lì, i laghi di Gansirri, unici al mondo, perché non è acqua dolce, ma sono acqua di mare, acqua salata, l'ho assaggiata, sì, perché non ci credevo da bambino, eh sì, l'ho assaggiata, lì ho fatto canottaggio, quindi, ci vede, vero? Sì, sì. Tutta quell'immondizia, tutta quella immondizia, lì la colpa, in parte probabilmente con gli alberi, le palme che lasciano cadere le loro foglie, eccetera, probabilmente c'è necessità che il comune venga, ma i sacchetti lì, chi li porta? Chi li porta? Io non c'ero. Tu non c'eri, ma tu sai, tu sai, sono i cittadini, quelli di passaggio, non per forza di Messina, ma non si fanno queste cose, non si devono fare, perché quello è un luogo bellissimo, protetto, come era, no? No, 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 e ancora, ma che tu non vai e ti fai una bella passeggiata alla Laga di Cazzini, dove ci sono i farmorani, le gru, i pesci, i zoccoloni fogni, ma i zoccoloni fogni ci sono perché butti i sacchetti, se non ci fosse niente da mangiare, non penso che ci sariano i zoccoloni fogni, anche perché alcuni pesci, i zoccoloni si mangiano, eh, lo sai tu che le spiccole? Poveraccio. Poveraccio chi? Prendo lo spicolo qua. No lo spicolo qua, ma dico io, l'ignorantone, per dimmi i soldi di scuola, anni e anni mandato a scuola e questo è il risultato. C'ho cinque lauree. Cinque lauree, dai, lauree, però, che ti telefonano, eh, eh, questo lo sappiamo? Cinque lauree e lauree. Ricapitoliamo, i laghi di Gansirri devono essere puliti, devono, competenza di chi? Anche lì, noi non andiamo a dire andate e pulite, però voi cittadini, invece di buttare il sacchetto. Io non ci vado, ma. Tu non ci vai? Sì. Poi mettete però in macchina e lo buttate quando è possibile, se no ve lo portate a casa e fate la differenziata. Non potete buttare quei sacchetti in un posto così bello, così unico al mondo, al mondo. Poi lo vuoi mettere? Ci sono altri laghi di Gansirri nel mondo? No. A Gansirri ci sono i laghi di Gansirri. Per questo. Ah. Tra il serio e il faceto, anche oggi, ha acceso gratuitamente i riflettori senza luce. Senza il favore. Senza il contatore, anzi sì, meglio, meglio senza il contatore. Senza il favore. Senza il contatore abbiamo evidenziato quello che ci è stato mandato, quelle due foto che sono state mandate, e ora non diciamo da chi, se no vi ho detto non te la chi. Sì. E quindi vi diamo, consegniamo un appello a tutti quanti. Non buttate i sacchetti della spazzatura in qualsiasi posto. Ce la differenziate, ci sono i cassonetti, i raccoglitori. Ma non si può fare. Tra il serio e il faceto, Nina e Papa, mercoledì. Dottima domani. Buongiorno a tutti, a domani. Ciao, ciao. In questa vita dove vai, un'altra notte che non sai, con tutti i sogni in stand by, il cuore fra le mani. Il domani è un domai, chissà tu che ne farai, dei tempi pieni di guai, e passi gli anni. Tra i libri dell'Union Fast Food, gli amici che non vedrai più, l'affetto di un pacco da giù, fregarsene di ogni tabù. Stori rinchiusi in tattoo, il futuro è fuori menù, qui cambio piano e paio di jeans. Noi rimaniamo così, viti da all you can eat, nascosti in queste grigie città. Noi rimaniamo così, serate del mercoledì, è qualcosa che non va. E la vita tu lo sai com'è, e la vita tu lo sai com'è. E la vita tu lo sai, esattamente com'è, e la vita tu lo sai. È una bella canaria schifosa, bella canaria schifosa, bella canaria schifosa. Dai vedrai che ce la fai, fitto tasse e canonerai, luce, gas e benzinai, pure questo mese. Sei cresciuto triste ormai, tempo e sogni persi vai, chissà quanto resisterai nel bel paese. Catrame nei polmoni, pantaloni a vita bassa, volano gli anni migliori fra una crisi e l'altra. E fidi vento ai genitori, tutti chiusi qui, l'ultimo treno passa e noi restiamo così. Noi rimaniamo così, viti da all you can eat, nascosti in queste grigie città. Noi rimaniamo così, serate del mercoledì, è qualcosa che non va. E' una bella canaria schifosa, bella canaria schifosa, bella canaria schifosa. E' una bella canaria schifosa, bella canaria schifosa, bella canaria schifosa. Fai attenzione agli anziani, fuori giocano a fare la guerra, vince il primo che alza le mani, se mette tutti per terra. Ricordati quanto vali, qui nessuno ti pensa, non serve essere umani, pensiamo solo a fregarci a vicenda. E' una bella canaria schifosa, bella canaria schifosa. E' una bella canaria schifosa, bella canaria schifosa, bella canaria schifosa. In questa vita dove vai, un'altra notte che non sai, con tutti i sogni in stand by, il cuore fra le mani.